Siamo continuati con la battuta d'arresto a casa per Savigliano contro Abba, eravate partiti bene, un ottimo primo set, vinto anche in modo abbastanza agevole, poi cos'è accaduto? Poi è accaduto che abbiamo perso continuità, di là bisogna riconoscere i meriti alla squadra che ha cominciato a ricevere e difendere bene, e noi siamo calati un po' con la nostra battuta facendo qualche errore in ricostruzione, in difesa, cosa che è noi molto agevole normalmente, nelle altre partite questa partita è stata un po' più deficitaria. Mi può dire che mancate proprio quelle che sono le vostre caratteristiche migliori? Sì, possiamo dire di sì, normalmente noi siamo una squadra che comunque ci dà un sacco da fare in difesa, e questa sera abbiamo fatto un po' più fatica, anche la battuta era il nostro cavallo di battaglia e siamo stati un po' meno efficaci del previsto. Ti spiace un po' perdere proprio prima della pausa? Ma di sicuro sì, perché comunque abbiamo vinto la scorsa partita contro Acqui, ma contro Varela e Cuno hanno già perso queste due partite e questa partita ci serviva proprio per darci la carica prima della pausa invernale, ma purtroppo abbiamo andato così. Grazie.